Buoniera, il tocco corto per De Jong, uno dei migliori in campo a Firenze. Ma non ho capito a lui qual è lo slogan, non li battiamo? No, li pandoriamo. Ah li pandoriamo? Ma li deciditi? Io ho detto che sarà molto difficile vincere però... Ma tu cosa fai? L'urlo pronostico qual è? Si vince o si perde o si pareggia? Pareggio, pareggio. Pareggio, pareggio.